Dopo la prima vittoria in campionato ottenuta sabato scorso contro il Pordenone, il Napoli Carpisa Yamamai ha celebrato ieri il suo ingresso nel calcio internazionale nell'amichevole con la squadra femminile del Paris Saint-Germain. Una festa trasformata in trionfo grazie al bomber Valeria Pirone che con una doppietta ha regalato alle azzure il primo trofeo città di Napoli disputato allo stadio Collana. Questa mattina una delegazione parigina è stata ricevuta dall'assessore allo sport Giuseppina Tommasielli per suggellare il gemellaggio tra le due città. Io credo molto nel calcio femminile perché era fino adesso un luogo abitato da maschi. Il fatto che le donne ci siano non solo ma ci stanno da protagoniste perché la nostra bella squadra in Serie A è sicuramente un fatto importante. Queste ragazze ieri sera sono state eccezionali e noi siamo contenti di avergi ospitate nella città. Quello che più si fa piacere è che abbiamo avuto diversi riconoscimenti da una società che è all'apice del calcio mondiale. È rimasta affascinata dall'accoglienza di Napoli, noi in questo sappiamo di essere tra i più bravi al mondo. Dobbiamo far seguire all'accoglienza i fatti non tanto dal punto di vista sportivo ma soprattutto nella solidarietà, nell'organizzazione, nelle cose che poi riusciamo a fare al momento giusto. E ieri ne abbiamo dato una prova. Grazie.